Salve amici del Centrometro Italiano, prossima settimana che potrebbe vedere un cambio di circolazione con un lato più freddo e instabile della primavera. Intanto anticiclone che domina tra Europa e Mediterraneo nel secondo weekend di aprile con tempo decisamente mite e asciutto. Temperature sopra media su tutta la penisola con massime oltre 25 gradi ma localmente prossime ai 30. Come l'anticipo dell'inizio della prossima settimana vedrà uno spostamento dell'alta pressione verso l'Atlantico e la discesa di aria più fredda sull'Europa. Modello europeo in particolare che mostrano una fase piuttosto fredda e instabile che potrebbe protarsi fino al successivo weekend, con temperature anche di qualche grado sotto media. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.